nessuno è rimasta incastrata tra i due alberi e vola da lì diego non so se hai notato ma nessun bad driver è di bologna questo è dovuto al fatto che qui da noi non solo siamo ottimi guidatori ma finiamo in overdose ancora prima di imparare a guidare va bene napro